Dal 2005 la Regione adotta provvedimenti e regolamenti concretizzati poi nei piani pluriennali per contrastare e prevenire il randagismo, un fenomeno purtroppo diffuso e che danneggia anche gli animali, stessi cani e gatti incolpevoli, spesso anzi il più delle volte abbandonati dai proprietari. Il nuovo piano formalizzato ha demandato all'azienda sanitaria regionale di attuare le misure previste per prevenire soprattutto le criticità ancora persistenti di tipo sanitario, di sicurezza pubblica e di benessere animale. Dalla Direzione Generale per la Salute della Regione, con una nota inviata all'ASREM, al Direttore dell'Unità Operativa Sanità Animale per conoscenza alla Prefettura di Campobasso e alla Struttura Commissariale, evidenziano che l'attuazione del provvedimento da parte degli enti interessati in primo luogo dall'azienda sanitaria ad oggi non ha assortito i risultati attesi, considerati anche i rallentamenti dovuti al Covid. Le associazioni animaliste e diversi cittadini hanno più volte segnalato criticità, richiedendo con forza un'azione più incisiva sul territorio. Sempre dalla Regione sottolineano che il piano ha la disponibilità finanziaria di 200.000 euro, di cui 100.000 euro già trasferiti all'azienda che deve assumere il ruolo di coordinamento e controllo del territorio con comuni, forze di polizia, associazioni di protezione animale e tutte le autorità competenti in materia. Come più volte suggerito dal direttore del servizio prevenzione, si legge ancora nella nota, si ritiene opportuno che l'ASREM prenda seriamente in considerazione una modifica dell'atto aziendale con l'istituzione dell'Unità Operativa per il Randagismo, espressamente prevista dalla legge regionale, che rappresenterebbe una modalità organizzativa attraverso la quale l'ASREM potrebbe avvalersi di personale dedicato per interagire in maniera efficace e in stretta sinergia con le autorità competenti in materia.